Sulle pensioni si sta facendo di nuovo molta confusione, questo getta allarme tra i cittadini. Un conto è intervenire per quanto riguarda i privilegi, chi ha versato pochissimo ha pensioni altissime. Un altro conto è confondere i privilegi con le pensioni liquidate col sistema retributivo. Stiamo parlando di pensioni anche da 1.500 euro l'ordi mensili. Quelle persone hanno lavorato tutta la vita e hanno il diritto di godersi in santa pace la loro pensione senza temere alcunché.